Più di mille persone hanno partecipato ieri 22 aprile alla Marcia della Pace, promossa dall'Istituto Comprensivo Padalino, ma che ha visto coinvolte le scuole di Fano e tante associazioni del territorio. All'iniziativa, che ha avuto il patrocinio del Comune di Fano, hanno aderito anche le scuole della Pace e delle Marche, la Tavola della Pace e gli Enti Nazionali per la Pace. Il tutto si è svolto con ordine e serenità, anche grazie alla collaborazione della Polizia Municipale, degli agenti di pubblica sicurezza e protezione civile. La Marcia, che partendo da Via della Giustizia ha avuto come punto di arrivo l'eremo di Montegiove, è stata preceduta da quattro mesi di intenso lavoro svolto nelle scuole e di numerosi incontri con le diverse realtà associative di Fano, con l'obiettivo di svolgere con gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Fano e con i rappresentanti del volontariato una riflessione comune sui temi dei diritti, della pace e della legalità. I risultati di questo impegnativo percorso hanno portato alla stesura di un documento che è stato letto a conclusione della Marcia e che i ragazzi e i giovani hanno posto all'attenzione della città, delle istituzioni, degli enti, delle associazioni e dei cittadini. È stata un'intensa mattinata di festa nel corso della quale si sono alternati canti, testimonianze, riflessioni degli studenti. Un popolo variegato che a prescindere dal credo religioso e dalle appartenenze politiche e culturali vuole essere un costruttore di pace, vuol contribuire quotidianamente ad abbattere i muri di odio, di discriminazione e di tutto ciò che ostacola la pace, consapevoli che non ci può essere pace senza giustizia.